ecco il manuale lo trovate sulla destra sulla destra dove c'è scritto i fondamenti del corso ma poi lo trovate nel documento diario di viaggio diario di viaggio trovano tutto il manuale non trovano più i capitoli adesso trovano sempre tutto il manuale che si perché scaricare poi un capitolo per volta alla fine non aveva senso quindi è più semplice quando aggiungo un capitolo poi riscaricarlo e tutto quanto è sempre tutto il manuale che ho scritto soltanto che viene aggiornato ma non l'abbiamo in specie di capo ciao ciao bene allora cominciamo didattica e narrazione quindi cominciamo occuparci di questo capitolo che rappresenta il sesto capitolo del nostro manuale appunto come dice il titolo ci occupiamo proprio di questo ci occupiamo di storytelling che lo affrontiamo sotto diverse angolature prima di tutto questo paragrafo vi presenta come dire una sorta di riassunto su quello che abbiamo fatto e dove siamo arrivati è interessante perché fa un po il punto della situazione che è necessario perché dobbiamo dare una svolta e occuparci dei meccanismi di storytelling all'interno della lezione che cosa diciamo inizialmente a questo proposito beh intanto che noi chiamiamo narrazione tutto ciò che colloca collocato all'interno di una linea temporale è chiaro che nel momento in cui c'è un prima e un dopo noi ci troviamo di fronte a una narrazione tuttavia non tutto quello che presenta un prima e un dopo può essere interpretato in termini narrativi per esempio potrebbe non essere concepito come tale cioè come un racconto dobbiamo distinguere tra il fatto che qualche cosa si sviluppi lungo una linea temporale e il fatto che questo sviluppo racconti o meno una storia se vi ricordate nel capitolo 1 avevo proposto l'esempio di un video corso sul design ecco questo video corso sul design non presenta delle una vera e propria narrazione presenta uno sviluppo temporale presenta degli elementi narrativi al suo interno semplicemente perché c'è questo sviluppo temporale ma non è organizzato secondo i canoni e criteri dello storytelling cioè della narrazione non è previsto questo video corso come tanti altri video corsi erogati a distanza non prevedono una struttura di tipo narrativo al loro interno e quindi noi dobbiamo occuparci proprio di questo ma che cos'è una struttura narrativa o meglio come possiamo agganciare una struttura narrativa alle nostre lezioni in particolare all'interno di un sistema di e-learning facciamo un esempio una delle strutture narrative più importanti è la suspense la suspense ovviamente non è il fatto che c'è il la come in un noto film la donna sotto la doccia e poi si vede l'uomo col coltello e la lama luccicante che si avvicina mentre questa signora questa signora fa il bagno non significa questo ovviamente perché perché comunque noi stiamo organizzando delle lezioni cioè scusate c'è una trasmissione di contenuti però capita che gli insegnanti anche così diciamo senza rifletterci inconsapevolmente però cerchino una strada narrativa anche quando svolgono delle semplici lezioni per esempio un docente può dire sapete che cosa succederà fra poco succederà che noi riusciremo a risolvere questo problema oppure vi sto parlando di giulio cesare riuscirà a sconfiggere pompeo lui che aveva l'appoggio di tutto l'egitto cioè che cosa che cosa fa l'insegnante in modo molto naturale cerca di introdurre questi elementi che sono elementi di sospensione di suspense che determinano ricercano l'attenzione attraverso che cosa attraverso l'incognita cercano l'attenzione attraverso il non sapere ma nell'attirare i soggetti all'interno di questo non sapere per cercare di rendere più misterioso il percorso è un elemento di scoperta questo non vuol dire ancora creare una un meccanismo di storytelling e come non vuol dire ancora creare un meccanismo di storytelling inserendo utilizzando dei meccanismi o dei trucchi che però sostengono la narrazione della lezione vi faccio un esempio siamo a distanza dobbiamo svolgere una video lezione live vale a dire in presenza come sto facendo io ora con voi e prendiamo questo esempio diciamo che l'insegnante sta leggendo con i suoi studenti una novella di verga perché la commentano insieme come farebbe in classe a questa novella parla racconta di questa novella e che cosa succede però se lui continuasse a fare così l'elemento narrativo resterebbe interno al racconto la novella stessa se parlasse per esempio di geografia questo elemento narrativo sarebbe perso quindi diciamo che in questo caso l'insegnante avvantaggiato perché leggendo un racconto ha già di per sé un elemento narrativo nella sua lezione però in fin dei conti non solo questo non basta ma questo elemento viene anche messo un po in secondo piano perché si legge questo racconto un po come sto facendo io magari con questo manuale si legge però poi ci si interrompe si offrono delle spiegazioni si cercano i significati determinate parole insomma il racconto perde la sua carica narrativa e la lezione acquista invece una sua supremazia nel momento in cui però l'insegnante porta avanti la sua lezione può sostenere degli elementi narrativi di suspense attraverso dei trucchi chiamiamoli così e io ve ne illustro uno in particolare dov'è allora qui spero che si veda dall'immagine allora che cosa fa l'insegnante in questo caso in questo caso mentre legge la novella quindi ripeto siamo a distanza in una situazione come questa mentre legge la novella ogni tanto si interrompe per proporre delle attività sempre a distanza su quello che sta facendo ad esempio propone un sondaggio dice verga dice che il popolo si ribella con violenza eccetera eccetera tu avresti agito nello stesso modo in cui verga descrive il racconto eccetera questo serve per una serie di motivi il primo perché in questo modo non è il docente che spiega e racconta tutto il il contenuto che deve presentare cioè evita di svolgere a distanza una lezione tradizionale perché ovviamente questo lo sapete a distanza dobbiamo agire in modo diverso rispetto a una classe dove c'è un contatto fisico una parola che viene distribuita eccetera in secondo luogo interrompendo quello che lui sta facendo crea un'attesa e passa la parola ai suoi studenti i quali devono esprimersi sul contenuto che è preso in esame e quindi la loro espressione diventa oggetto di discussione e di analisi per poi riprendere ad andare avanti nella lezione allora lasciate perdere che si tratti di un racconto e quindi come dicevo prima abbiamo già un elemento narrativo ma pensate a qualsiasi altro tipo di lezione un secondo momento poi oltre il primo colore del sondaggio ma il secondo invece riguarda la scrittura di un testo cioè si chiede a tutti gli studenti di esprimersi in merito a una parte del contenuto che è stato affrontato oppure che dovrà essere affrontato gli si chiede di leggere o qualche cosa di osservare un'immagine di vedere uno spezzone di un clip quello che desiderate voi di ascoltare un audio e quindi gli si chiede di scrivere qualche cosa in merito a una determinata domanda come voi sapete poi tutte le risposte vengono radunate all'interno di un foglio di Excel questo l'abbiamo già di fogli di Google e quindi che è come un foglio di Excel e quindi questo l'abbiamo già visto e dunque possiamo poi esaminarle insieme ai ragazzi un terzo elemento invece è di trovare degli elementi significativi all'interno del contenuto cioè del testo in questo caso che si sta esaminando di proporli scrivendoli qui brevemente qui si propone di scrivere una citazione e un'altra citazione nel testo e poi di capire se queste citazioni sono attinenti sono significative rispetto al contenuto che si sta sviluppando dunque prima vi ho posto la domanda che cosa otteniamo con questo schema allora otteniamo come vi ho detto il fatto che creiamo una certa attesa sullo sviluppo della lezione ma poi e questo è un elemento narrativo ma poi spezziamo la lezione cioè evitiamo di fare in modo che la lezione possa risultare troppo pesante specialmente a distanza in terzo luogo teniamo viva l'attenzione degli studenti perché perché devono rispondere quindi devono essere pronti a interloquire interagire direttamente il tipo di interazione che noi abbiamo in questo caso presenta dei vantaggi e degli svantaggi rispetto all'interazione in presenza on site in classe gli svantaggi sono nel fatto che non abbiamo un contatto fisico ed è bello poter discutere invece avendo proprio un contatto fisico vedendo le espressioni cercando di capire gli atteggiamenti il linguaggio del corpo ecco questa parte noi non l'abbiamo a distanza però abbiamo qualche cosa in più che in classe non abbiamo e cioè abbiamo il fatto che tutti in questi tre esempi rispondono e sono coinvolti sono coinvolti tutti mentre in classe è più difficile è più difficile perché c'è qualcuno che alza la mano diamo la parola a qualcuno o qualcun altro altri no certi li sollecitiamo ma siamo un po' noi che facciamo la regia ma non raccogliamo tutti i dati che potremmo invece raccogliere e che sarebbero utili lo potremmo fare nel caso in cui in aula noi adottassimo un sistema come questo a distanza vale a dire siamo lì con la LIM i ragazzi hanno un dispositivo a disposizione quindi noi svolgiamo una lezione come vogliamo con loro e a un certo punto proponiamo delle attività di questo tipo alle quali loro risponderanno nello stesso identico modo che vi ho mostrato a distanza online allora sì allora avremmo qualche cosa certamente in più perché cosa ci interessa beh perché fino adesso noi abbiamo continuato a parlare di un processo di apprendimento e questo processo noi stiamo cercando di fare in modo di averlo di stimolarlo e di organizzarlo per poterlo osservare tra l'altro noi abbiamo tre elementi di valutazione vi ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato proprio della valutazione abbiamo tre elementi di valutazione che possiamo stabilire di trattare come vogliamo questo è un tipico caso però nel quale noi non possiamo stabilire una griglia di valutazione preliminare cioè dire adesso faccio un sondaggio voglio misurare questo voglio misurare quell'altro non lo possiamo fare perché perché prima di tutto è una instant attività istantanea è una instant lesson diciamo così cioè le attività sono spontaneamente organizzate anche se io ho preparato prima questi questi interventi però questi interventi risentono della spontaneità dell'ambiente in secondo luogo sono legati tra di loro è impossibile valutare un elemento senza il collegamento con l'altro e quindi a noi serve per ricavare la dinamica di questi non so 40 minuti in cui ci troviamo a distanza con i nostri allievi e abbiamo degli elementi infatti vedete che qui vengono attribuiti dei punti sono dei punti indicativi ma intanto il punteggio introduce un elemento semplicissimo di gamification cioè di gioco e quindi stimola ancora di più la partecipazione degli allievi e dunque è nel loro interesse che la narrazione continui per andare avanti e accumulare punti per il fatto che poi noi inseriremo questa valutazione nel modo in cui crederemo attraverso giudizio attraverso voti non lo so questo dipende poi dal modo di procedere di ciascuno perché è un dato pedagogico non è un dato ingegneristico oggettivo per il quale noi possiamo dare delle indicazioni precise a tutti gli insegnanti noi diciamo ogni insegnante inserisce queste attività nel quadro delle sue modalità poi di valutazione però è ovvio che questo meccanismo non può essere adottato una tantum cioè non potete svolgere 30 lezioni tradizionali di un'ora luna e poi venire fuori con questo giochetto perché non vi serve niente perché voi misurerete qualche cosa relativamente a quei 40 minuti ma non avete in mano il processo quindi queste sono un tipo di attività che voi dovreste poter somministrare con continuità nel tempo in modo tale poi da avere una grossa casistica e avere degli elementi dei numerosi elementi di valutazione come vi abbiamo detto la volta scorsa allora vedete che c'è una contraddizione apparente cioè noi abbiamo interrotto un'esposizione e curiosamente interrompendo un'esposizione creiamo una suspense cioè immettiamo nella nostra lezione un elemento narrativo dicevo un'apparente contraddizione perché beh immaginate di andare al cinema siete lì belli che vedete il film ma a un certo punto il film viene interrotto perché vi viene proposto un sondaggio a cui rispondere eccetera secondo me vi incazzate uscite dalla sala e chiedete il rimborso del biglietto è un'assurdità totale cioè viene interrotta una narrazione allora come stanno in piedi le due cose beh è semplice una lezione non è una narrazione è una narrazione solo dal punto di vista temporale solo perché io espongo lungo una linea lungo una timeline espongo una successione che parte da un prima arriva un dopo ma non parlo di una storia non è organizzata attraverso una storia io posso mostrarvi delle delle non so delle mappe posso mostrarvi delle immagini ma non vi racconto la storia di Giulio Cesare è chiaro stiamo analizzando che cosa i rapporti dello Stato la Repubblica eccetera cioè è una lezione una trasmissione di contenuti non è un racconto e quindi proprio per questo motivo lo posso interrompere e la sua interruzione si è organizzata con questa logica cioè una logica che prevede una interazione semplice chiara fondata anche su dei punteggi che rientra anche all'interno di una valutazione beh questo è un elemento che contribuisce a inserire all'interno di un oggetto che non è narrativo una struttura di tipo narrativo e poi va bene vedrete vi leggerete poi le altre insomma vi invito ovviamente a leggere il manuale io sto solo prendendo alcune cose delle più significative un altro elemento per esempio che riguarda la narrazione è che la narrazione ha sempre un anticipo è sempre anticipata prima di andare a un cinema a vedere un film voi avete visto un trailer avete letto una recensione non avete fatto niente di tutto questo avete incontrato un amico che vi ha parlato di quel film non avete incontrato l'amico che vi ha parlato di quel film ne avrete comunque sentito parlare da qualche parte cioè voi non vi troverete mai di botto come in un teletrasporto da star trek dalla vostra cucina zap piazzati in una sala cinematografica con l'inizio di un film c'è sempre un anticipo e c'è un anticipo anche nelle storie che le persone si raccontano guarda sai cosa mi è successo ieri vieni vieni che devo telefonarti domani perché ti devo raccontare una cosa incredibile il discorso narrativo ha sempre un preambolo ma perché questo preambolo beh perché è intrinseco al sistema narrativo stesso la narrazione deve tenere sulla storia deve tenere su l'attenzione del suo pubblico e quindi comincia la storia prima ancora che abbia inizio allora è interessante questo perché perché voi potreste fare una cosa di questo genere potreste anticipare la vostra lezione un po' come abbiamo fatto con Elicona avete visto che sono giunti qui ogni figura mitologica prende la parola e anticipa qualche cosa rispetto a quello che dovrà succedere esprimendo il suo punto di vista Cerbero esprime la sua contrarietà però intanto annuncia quello che sta succedendo Clio risponde le varie muse anche quindi sono tutti meccanismi che hanno a che fare appunto con l'anticipo narrativo però vi dico subito che per voi diventa un problema perché cosa volete anticipare dovete svolgere non so diciamo una trentina di lezioni che cosa fate 30 trailer cinematografici pur diciamo così non so di 20 secondi l'uno va bene 30 trailer 20 secondi l'uno per anticipare la lezione ma ci vuole tempo ci vuole un paio di orette per famiglia o minimo così un paio di orette per fare un trailer un po' fatto bene mettere insieme le cose non avete il tempo non potete organizzare una cosa di questo genere forse ve la cavereste meglio magari con dei poster ecco vedete che stiamo parlando di cose che ormai sono comuni nel nostro linguaggio il poster prendete un modello è più semplice modello l'icona annunciate a tutti quanti una lezione particolare succederà questo quell'altro è più semplice però non potete sostenere questo ritmo per tutto un periodo scolastico lo potete fare ogni tanto e andrebbe già bene potrete scegliere per esempio quelle lezioni quegli argomenti che più si prestano e cercare di sostenerli attraverso questi meccanismi narrativi tra l'altro sostenendo una parte di quello che voi fate questa parte poi avrà delle influenze anche su tutto il resto quindi non è male questa soluzione però noi ci troviamo a distanza e abbiamo proprio bisogno di poter fornire ai nostri ragazzi degli strumenti di questo genere cioè che li portino all'interno della storia e quindi li facciano capire che una storia in qualche modo esiste come fare beh voi potete per esempio pensare di organizzare dei gruppi di lezione per esempio avete degli argomenti da trattare li potete suddividere un po' come avviene nelle serie televisive certo so già che voi fate questo in termini per esempio di moduli unità formative eccetera eccetera però dovete cambiare un po' la mentalità in questo caso ragionare più in chiave storytelling quindi capire quando una stagione finisce cioè all'interno di un determinato tema una serie di argomenti da sviluppare quando finisce una stagione se ne passa a un'altra non so finisce la repubblica romana si passa all'impero ecco potrebbe essere un'altra stagione cose di questo genere allora potreste raggruppare per dire 5-6 lezioni all'interno di una stagione allora lì varrebbe la pena sì creare qualche cosa di interessante un trailer per esempio che vale per tutte le 6 lezioni poi collocate queste lezioni all'interno di una landing page come abbiamo visto stamattina mi sembra l'abbiamo fatta questa cosa ma l'avete fatta l'avete realizzata con google site anche nelle settimane precedenti e quindi ecco che avete un'impostazione interessante che si aggancia a degli elementi narrativi e questo è semplice da fare per voi adesso tra l'altro avete in mano anche alcuni strumenti sia tecnici ma direi soprattutto di riflessione per quello che stiamo facendo quindi non vi sarà difficile organizzare le cose in questo modo però però non siamo ancora all'interno di una narrazione vera e propria cioè stiamo utilizzando degli elementi dello storytelling per dare l'impressione che ciò di cui ci occupiamo abbia a che fare con un racconto ma non è un racconto perché anche questa divisione in episodi all'interno di una stagione fittizia è diciamo la forma con la quale noi rivestiamo dei contenuti che però non sono realmente degli episodi non sono dei racconti allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare un lavoro da macellaio proprio da macellaio non so se lì da voi ci sono i macellai da me sono molto diffusi i macellai in tutti i sensi quelli che hanno il negozio della macelleria e quelli proprio che nella vita operano come dei macellai e c'è una distinzione tra le due cose perché il macellaio che opera il negozio fa un lavoro molto fine e curato invece i macellai che non sono macellai fanno un lavoro che poi tende normalmente a complicarci la vita io mi riferisco ai primi quelli che hanno il negozio dobbiamo fare un lavoro da macellaio che cosa fa il macellaio il macellaio separa separa il nodino dal filetto separa l'osso separa il buco dall'osso oppure l'unisce diventa osso buco fa questo tipo di operazioni noi dobbiamo prendere la nostra lezione e operare come dei macellai cioè dobbiamo separare che cosa dobbiamo separare dobbiamo separare due momenti il momento narrativo dal momento invece di informazione tutte le lezioni o gran parte delle lezioni cioè degli argomenti che noi trattiamo contengono questi due aspetti c'è quasi sempre un elemento narrativo proprio c'è un racconto e c'è quasi sempre un elemento invece legato al dato all'informazione vi posso raccontare parlare di Giulio Cesare attraverso un racconto e poi possiamo vedere dei dati dei dati molto molto precisi che riguardano i rapporti di potere le questioni economiche sociali politiche eccetera eccetera allora proviamo all'interno di una lezione di questo genere a separare questi due momenti e quindi per farvi capire meglio questo procedimento torniamo al compito vi ricordate col quale abbiamo iniziato questo corso e cioè la vostra passione è venuto il momento di riprenderlo e portarlo avanti quale che sia la tua passione facciamo così hai creato un piccolo racconto ve lo ricordate un piccolo testo che aveva la funzione di ispirare qualcuno un target esterno probabilmente un target di persone adulte alla passione dello sci della fotografia eccetera questo testo lo avete depositato nel deposito dei testi andatelo a rivedere aggiustatelo se non l'avete ancora scritto scrivetelo e inseritelo e abbiamo questo testo che è quello che serve per catturare delle persone che non sanno niente della vostra passione e che potrebbero però essere ispirate dal vostro racconto ma facendo questa operazione voi non avete ancora fatto nulla sull'insegnamento della vostra passione che è il compito di questo corso cioè di creare un ambiente un sistema che sia adatto a insegnare la vostra passione avete un elemento narrativo molto forte che è di ispirazione che è il racconto che avete preparato ma non c'è nessun insegnamento ci sono degli insegnamenti basati sui valori etici eccetera ma non c'è un insegnamento pratico concreto allora facciamo un'altra operazione e quindi adesso vi presento poi i tre esercizi che che subito questo capitolo vi propone allora facciamo un'altra operazione l'operazione da fare è questa pensate a sette step attraverso i quali il soggetto in questione potrebbe cominciare a praticare la sua la tua stessa passione sette step quindi l'hai ispirato perfetto adesso lo devi portare lui è ispirato quindi è disponibile a indossare un paio di sci non avendolo mai fatto prima non ti puoi dire vai iscriviti al club di sci gli dovete dare delle indicazioni precise i sette step attraverso i quali questo soggetto potrebbe cominciare a praticare la tua stessa passione che cosa gli suggerireste guardate che questa è un'operazione delicatissima perché sbagliare questa operazione significa allontanare il soggetto in che modo si può sbagliare questa operazione in due modi o questi sette step sono troppo semplici banali e quindi non mettono alla prova il soggetto oppure sono troppo complicati elevati e rendono impossibile per il soggetto di seguirli questo riguarda anche non solo le capacità del soggetto riguarda anche le condizioni obiettive per esempio se voi dite che il primo step è comprare un paio di scarponi da sci da 1500 euro voi vi allontanate l'80% degli interessati questo è chiaro quindi dovete valutare tanti elementi sia cognitivi ma anche materiali di vita concreti affinché questi sette step possano essere realmente seguiti avete due possibilità potete partire dal generale o dal particolare per esempio restiamo nel campo dello sci ti insegno a entrare nel mondo dello sci proprio entrare nel mondo dello sci quindi i sette step riguarderanno tutto ciò che riguarda lo sciare nelle sue funzioni di base affinché tu possa indossare l'attrezzatura necessaria e scendere da una pista oppure voi potete scegliere invece di illustrare un particolare all'interno di questa passione per esempio potreste decidere di illustrare come si scende a spazzaneve da una pista come si vince un senso di panico quando scopri di essere sul ciglio di una pista nera per la prima volta che hai messo di sci addosso ecco mi rendo conto che magari per Sassari non è questo dello sci l'esempio più interessante da fare ma è il primo che mi è venuto in mente non so neanche perché tra l'altro perché non vedo l'ora di godere dell'estate e poi non sono neanche uno sciatore quindi anzi ho imparato a sciare con un manuale da sci sulle piste da sci e il risultato è che mi sono fatto tre mesi di ospedale quindi quando ero ragazzo con questo manuale sicché è proprio il peggiore degli argomenti però comunque avete capito che cosa abbiamo fatto noi abbiamo diviso abbiamo separato come quel macellaio famoso abbiamo separato l'elemento narrativo lo sci la sua bellezza i campioni la descrizione le piste il freddo il caldo la gioia la sfida eccetera eccetera cioè tutti gli elementi narrativi li abbiamo messi da parte e su questi abbiamo organizzato delle lezioni incredibili e dagli elementi invece che poi sono quelli che vanno veramente studiati perché se poi il nostro studente diventa acquista il diploma di costruttore di sci o di non so che cosa poi dovrà mettere in atto proprio queste operazioni le abbiamo separate e tra l'altro non abbiamo centrato la lezione su questo cioè sugli step ma abbiamo centrato la lezione sull'elemento narrativo perché ma perché una volta che noi abbiamo agganciato il nostro soggetto poi lui sarà perfettamente in grado se le cose le abbiamo organizzate bene di avere un primo approccio con i contenuti più scientifici contenuti che poi ci possono ritornare in diversi modi potete decidere di applicare tecniche flipped o tradizionali come pare a voi questo è una vostra scelta ma la separazione di questi due momenti vi consente di agganciare lo storytelling proprio alla lezione poi invitate ovviamente questo ne abbiamo già parlato i ragazzi a costruire degli oggetti perché gli oggetti poi dimostrano che esiste una unità tra l'elemento narrativo e l'elemento comunicativo l'elemento narrativo è scientifico diciamo così della vostra lezione perché? perché l'oggetto didattico rappresenta la capacità di rielaborare le conoscenze sto parlando di rielaborare le conoscenze quindi l'oggetto deve essere qualche cosa che a sua volta ha a che fare con la narrazione perché deve essere il racconto del ragazzo su ciò che lui ha appreso quindi per esempio un poster va bene perché rappresenta una sintesi uno slogan eccetera più difficile per esempio che un'infografica possa rappresentare invece questa unità di racconto e contenuti scientifici perché poi il racconto deve essere deve essere fatto sull'infografica stessa perché l'infografica di per sé non parla va interpretata mentre un testo un fumetto un filmato un podcast un racconto audio eccetera sono già elementi finiti che raccontano sono oggetti che già raccontano qualche cosa quindi fate attenzione quando poi scegliete che cosa proporre ai vostri studenti allora adesso vi mostro come può essere svolto il vostro lavoro attraverso un esempio concreto così vediamo proprio cominciamo a entrare proprio nell'ambiente dello storytelling se avete il cellulare disponibile potete tenere acceso il computer per vedere che cosa io faccio qui e allo stesso tempo potete controllare la stessa cosa da un altro dispositivo intanto io apro il link bene conto fino a 10 poi tolgo questo qr dalla vostra visuale però potrei anche mettere il link all'interno della chat in effetti così eccola qua bene vi ho messo il link nella chat allora vediamo come può essere strutturato un racconto di ispirazione quindi il primo compito consiste nel rielaborare quel primo testo famoso che avete consegnato quando eravate entrati in elicona quindi black and white il quotidiano mondo intorno a te avevo 12 anni quando ricevete in regalo la prima fotocamera era un'agfa con la custodia in pelle che funzionava a pellicola per me Maurizio e Michele fu una scoperta incredibile potevamo conoscere il mondo intorno a noi quel mondo che frequentavamo ogni giorno e che ci appariva così distante intanto notate il meccanismo di scoperta che è quello che desidero che voi realizziate perché questa applicazione poi ne parliamo e vi mostro anche come funziona presenta una una struttura che è proprio tipica dello storytelling perché noi non vediamo subito tutto quello che succede all'interno di una landing page ma questo ci viene proposto un po' per volta quindi avevo 12 anni regalo la prima fotocamera poi abbiamo una bella immagine e una citazione la citazione è fondamentale è fondamentale perché succede questo il soggetto che arriva a una landing page di questo genere ci sta al massimo tre secondi e mezzo tre secondi e mezzo vuol dire che noi dobbiamo cercare un'immagine interessante che lo possa catturare per esempio questo signore stava fotografando questa signora stava fotografando appoggiandosi alla spalla di questa signora perché eravamo all'interno di un museo e quindi non aveva un cavalletto a disposizione è un'immagine molto interessante anche se è un po' sgranata e quindi può evocare qualche cosa un titolo semplice e chiaro perché qui siamo già a un secondo un secondo e mezzo e poi il primo titolo e la prima riga devono catturare altrimenti il lettore è perso avevo 12 anni è chiaro che si tratta di una storia è inequivocabile una storia che inizia indietro nel tempo interessante quando ricevete in regalo la prima macchina fotografica forse noi siamo riusciti a catturare il lettore se siamo riusciti a catturarlo a questo punto ricordatevi quello che vi dico perché quello che vi sto spiegando adesso sono proprio le tecniche classiche che vengono utilizzate in questi frangenti quando io catturo so, penso di avere catturato il mio lettore non posso continuare il racconto lo perdo devo ricatturarlo di nuovo e lo ricatturo con un'immagine un'immagine bella evocativa interessante a cui aggiungo come rafforzativo una citazione una fotografia è un segreto intorno a un segreto più rivela e meno lascia capire questa è una grande fotografa che si chiama Diane Arbus ma 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 segnatevi questa cosa sul vostro quaderno e la sottolineate con l'evidenziatore 50 volte ma questa citazione la citazione che voi inserite può essere anche completamente inventata signori siamo nel campo della narrazione abbiamo il diritto di inventare quello che vogliamo quello che ci pare se siamo all'interno di una narrazione che cioè per strutturare una narrazione che possa portare il nostro lettore a proseguire il racconto noi abbiamo la massima libertà tutta la libertà possibile immaginabile quindi se non trovate una citazione questo rimane evidenziato se non trovate una citazione la inventate ma a questo punto della storia una citazione che rafforza l'importanza di quello che state raccontando che sia anche evocativa eccetera è un elemento interessante non dico che dovete creare il vostro lavoro così io vi sto dando degli spunti poi deciderete voi come organizzarlo quindi adesso devo raccontare qualcosa d'altro ma vedete che mentre lo racconto devo fare in modo che il mio lettore butti l'occhio su quello che succede dopo e quello che succede dopo non può essere di nuovo un testo perché la gente non è abituata a leggere dobbiamo prima catturarla attraverso la scoperta delle immagini e poi quando l'avremo catturata gli possiamo proporre anche le 600 pagine di guerra e pace non c'è nessun problema street photo e candy di camera avevamo subito una grande idea quindi entriamo subito nel cuore del problema della storia proprio eravamo a Milano negli anni 70 la città brulicava di persone e gli eventi si susseguivano avevamo organizzato una squadra composta da noi stessi io fotografavo Maurizio curava l'azione e Michele faceva il palo potevamo gettare l'allarme in un negozio scartare di lato davanti a un passante fingere di lanciare qualcosa indicare a qualcuno che aveva perso un oggetto che neppure possedeva e scattavamo per registrare l'effetto poi scappavamo e qui siamo proprio veramente dentro una storia dentro la storia che ci porterà poi a capire com'è nata questa questa passione qui c'è l'azione qui abbiamo diciamo l'antefatto il regalo abbiamo consolidato l'antefatto con una citazione che è un'immagine fotografica che toccano l'immaginario e quindi non hanno bisogno di essere spiegate e qui raccontiamo un'azione e poi scopriamo una foto dove non c'è scritto niente c'è solo questa ragazza e adesso vi devo spiegare in che cosa consiste questo elemento c'è questa ragazza poi io continuo a scorrere e per prima cosa vedo un titolo Nicole fotografa delle stelle mi si ripropone la stessa immagine ricordatevelo questo perché è un effetto geniale di questo sistema Nicole Hesner Nicole ci aveva mostrato le sue foto di cieli notturni no non conoscevo Nicole ma un giorno capitò una rivista e il nome di questa fotografa era Nicole Nicole non fotografava persone e gesti ma natura e soprattutto cieli notturni restammo affascinati che potenza incredibile aveva la fotografia allora sapete che cos'è questo questo è il filone B è il filone secondario abbiamo voluto interrompere coscientemente la narrazione del filone primario per introdurre un elemento secondario sapete chi organizza questo tipo di struttura da un punto di vista dello storytelling sono esattamente gli episodi di una serie televisiva siccome la storia di una stagione alla fine è molto semplice da raccontare e si riduce a poche cose è necessario per tenere su la visione introdurre una serie di filoni secondari abbiamo un filone primario il filone A e poi ci sono filoni secondari B, C, D eccetera Johnny incontra Mary la storia riguarda John e Mary ma a un certo punto incontrano Alfred e quindi c'è un filone secondario che riguarda Alfred l'abilità poi di chi costruisce queste storie l'abilità peraltro abbastanza rara è di ricollegare il filone di Alfred alla storia principale A in modo tale che tu sei obbligato a vedere il filone B perché altrimenti diventa solo un sistema secondario che serve per tenere su artificialmente la storia vi propongo un esempio se avete un abbonamento a Netflix Prime a queste cose qua e seguite delle serie televisive fate questa operazione prendete una serie nuova guardate il pilot che sarebbe la prima puntata nella prima puntata normalmente appaiono tutti gli elementi che poi saranno sviluppati nella storia quindi la prima puntata la dovete guardare tutta da A alla Z dopodiché fate questa operazione annotate qual è il filone A se non è chiaro guardate anche per intero la seconda puntata ma non oltre di solito la prima è sufficiente al massimo la seconda per intero poi avete capito qual è il filone A della storia e vi vedete tutte le rimanenti 8-10 puntate saltando con il vostro come si chiama che tenete in mano il vostro telecomando saltate sistematicamente ogni volta che la storia vi propone un filone secondario lo saltate proprio di brutto e andate a vedere solo il filone A arrivate così fino alla fine e se arrivate fino alla fine e avete capito la storia vuol dire che la sceneggiatura fa schifo vuol dire che tutti i filoni secondari sono completamente inutili ai fini della storia del filone A e che non sono stati in grado di metterli insieme questo guardate la maggior parte delle serie telecomando proprio la stragrande maggioranza delle serie televisive ve lo dico perché io ne guardo a decine le guardo poi appunto scrivo perché studio proprio questi sistemi e quindi è proprio così perché è molto difficile unire le due cose però voi cercate di farlo inserite questo elemento allora vedete dove l'ho inserito questo elemento l'abbiamo inserito qua dopo aver raccontato la prima azione vogliamo tenere su la suspense introduciamo questo elemento che rafforza la storia e a questo punto vi svelo la grande verità di questa cosa che è completamente falsa questa foto è stata scelta solo in base al fatto che la posizione del soggetto fosse a destra e quindi guardasse in questa direzione con gli occhi alti verso il cielo che fosse bianco e nero che non avesse altri oggetti intorno a sé quindi che non potesse essere interpretata in modi diversi dalla figura stessa il nome è falso se voi cercate Nicola Eise poi magari avendo inventato anche un nome falso può anche darsi che scopriamo e questa è una grande fotografa e la storia dell'astronomia è completamente inventata perché è stato inventato questo ma proprio per rafforzare questo racconto e invece questa storia è vera questa è vera questa è falsa ma siccome un filone è secondario nulla toglie la verità di quello che raccontiamo quindi nel racconto di una verità noi possiamo infarcire questo racconto di tante cose che non sono vere purché non rimettano in discussione la verità della cosa che noi stiamo raccontando e questo non la mette in discussione perché ci dà l'idea semplicemente che la passione della fotografia sia rafforzata tra l'altro osservazione ci dà l'idea che la passione della fotografia sia rafforzata senza dirlo cioè senza dire che a questo punto noi grazie al suo racconto abbiamo deciso di andare avanti no diciamo solo che restammo affascinati che potenza incredibile aveva la fotografia quindi è implicito il fatto che andiamo avanti e se abbiamo catturato il lettore fino a questo punto lui verrà avanti con noi perché adesso noi possiamo raccontare la storia perché il lettore l'abbiamo preso l'abbiamo preso quindi possiamo fare così lei scompare tra le sue stelle guardate questo effetto molto bello proprio è una dissolvenza che ci porta nel mondo di questa inesistente Nicole il mondo delle stelle continuiamo a scorrere e quindi continuiamo a raccontare scoprire come le persone adulte reagivano come grazie alla fotografia erano alla nostra mercè e non eravamo più noi sottomessi era una sensazione fantastica la fotografia dava potere siccome il lettore si è identificato con questa storia a questo punto il potere viene trasferito dalla storia al lettore sarà il lettore che sentirà la potenza di questa narrazione e quindi vuole continuare a questo punto la scelta dell'immagine era quasi obbligata nel senso che non si poteva inserire un'inquadratura bidimensionale tipo questa bisognava inserire un punto di vista differente perché ma perché proprio stiamo parlando di punti di vista diversi e quindi rafforziamo l'idea di assumere un punto di vista non tradizionale cioè quello del potere che ti dà la fotografia sugli altri attraverso proprio questo infatti noi fotografiamo questa persona dall'alto lei non si accorge di essere fotografate ed inequivocabilmente non solo una bella inquadratura ma rappresenta proprio il potere della fotografia sulle persone e poi abbiamo l'epilogo perché la storia non deve essere troppo lunga abbiamo detto che è una storia di ispirazione quindi abbiamo portato in alto il lettore adesso lo dobbiamo fare cadere gli abbiamo dato l'illusione di vivere una storia che l'avrebbe portato sulla vetta del mondo e adesso leggermente prima di arrivare sulla vetta del mondo lo facciamo ruzzolare giù e infatti diciamo che questa è una passione troppo costosa che emozione poter rivedere le fotografie e cogliere gli sguardi i gesti purtroppo eravamo tre adolescenti spiantati le nostre misere paghette dovevano sostenere il peso di acquistare e di sviluppare le pellicole dopo alcuni mesi in cui praticavamo ogni giorno questa attività meticolosamente programmata l'abbiamo dovuta abbandonare paf colpo di scena colpo di scena perché senza colpo di scena non c'è storia come mai non c'è storia senza colpo di scena perché il colpo di scena riguarda un conflitto e senza un conflitto non c'è narrazione cioè se la storia fosse finita qua sarebbe stata scusate il termine una cagata cioè va bene ok hai la macchina fotografica pensi di e allora e come va avanti e quindi non può finire così allora colpo di scena attraverso un conflitto il conflitto è tra la volontà di coltivare questa passione e le forze esterne che sono troppo forti per te questi ostacoli sono eccessivi per questi tre adolescenti che non riescono a coltivare la loro passione non riescono a farlo per un motivo banale non hanno i soldi per comprare le pellicole e neanche per sviluppare le fotografie fantastico ci sono due modi per uscire da un conflitto si viene sconfitti si abbandona si rinuncia e quindi non solo non c'è un cambiamento ma c'è addirittura una retrocessione al punto di partenza cioè al punto in cui questi ragazzi non avevano ancora la loro fotocamera non erano ancora dei fotografi quindi c'è un ritorno indietro e questo ritorno indietro fa incazzare lo spettatore giustamente non tanto perché è bello il lieto fine ma perché scusa mi ha raccontato una cosa che non ha nessun senso e che poi mi ha riportato all'inizio e cioè quindi tanto valeva che non mi raccontassi nulla mi ha raccontato la storia di un fallimento va bene tutti possono fallire ma il problema è che il fallimento deve determinare un cambiamento puoi anche tornare indietro ma deve essere un cambiamento deve esserci un motivo cambi la tua passione rifletti succedono delle cose non lo so ma non può concludersi così il secondo la seconda soluzione è quella che invece vi presento adesso ecco che cosa succede foto diciamo con un po' di nostalgia c'è questo fotografo questa fotografa però continua così ma oh qui c'è un errore ma dovevamo continuare il nostro mestiere quindi non c'è un abbandono c'è un'interruzione hai guardato la foto ti è venuto il dubbio che cosa succederà no vogliono continuare wow sospiro di sollievo l'idea c'è un altro errore va bene l'idea era semplice non potendo aumentare gli incassi dovevamo ridurre i costi giusto geniale la cosa come si chiama guzza l'ingegno no non più due o tre foto buone ogni rullino da 30 a 6 e già perché perché non basta una macchina fotografica per essere fotografi hai la la fotocamera però cioè se non sai come si fotografa chiaramente ogni volta con questi ragazzi stampavano le loro 36 fotografie ne venivano fuori di buone due o tre ma 36 foto buone ogni rullino quindi non più due o tre foto buone ogni rullino da 36 ma 36 foto buone da ogni rullino quindi bisognava studiare studiare a fondo la fotografia mollai l'agfa trovai dei libri in biblioteca non potevo applicare quello che studiavo non c'erano soldi per fotografare perciò studiavo immaginando leggevo e immaginavo immaginavo di essere per strada e di catturare la luce giusta la passione aveva gettato il suo germe e a questo punto puoi continuare finché vuoi puoi stare sicuro che il tuo lettore spettatore ora l'hai catturato completamente gli proporai i tuoi dieci episodi a stagione per venti stagioni se sono fatti bene lui seguirà la tua storia attraverso il mondo della fotografia vi ho presentato così brevemente attraverso un esempio concreto alcuni degli elementi che normalmente si utilizzano in ambito di storytelling vi devo dire che non esistono delle regole diffidate di tutti quelli che vi spiegano le regole dello storytelling sono cazzate perché esistono delle regole nel senso del conflitto la suspense eccetera eccetera ma tutto lo storytelling è dettato da un equilibrio da una sensibilità di costruzione senza la quale tu puoi avere appreso a memoria tutte le regole che ti pare poi dopodiché non riuscirai a produrre niente interessante però l'applicazione fa molto quindi applicando si guardando osservando leggendo guardando film eccetera voi troverete degli spunti interessanti più rifletterete più proverete a fare e più affinerete le vostre tecniche nel racconto quindi mi piacerebbe che voi faceste qualche cosa del genere utilizzando un'applicazione questa applicazione per esempio e cominciando a pensare come poterla impiegare per raccontare la vostra specifica passione un po' nel modo in cui io ve l'ho presentato invece torniamo al nostro al nostro manuale quindi questo è il primo compito compito molto importante e il secondo compito invece eccolo qua la foto web story il tuo racconto di ispirazione è spiegato qua e poi il secondo racconto invece un testo comunicativo della tua passione però vediamo che qui ci sono degli altri elementi che possono essere interessanti creare e pubblicare una foto web story vediamo che cosa vi ho inserito qui ah sì questo è interessante per il fatto che qua vi spiego altri meccanismi per creare il vostro fotoracconto sempre da un punto di vista dello storytelling intanto fatevi ispirare dai modelli che trovate perché i modelli che questa applicazione propone variano di volta in volta perché sono scelti tra le varie pubblicazioni che i creativi grafici persone di mestiere pubblicano e quindi sono proprio interessanti guardate le inquadrature anche come sono sistemati i tipi di racconti vedete ecco osservate molto guardate che senza osservazioni non c'è racconto è impossibile è impossibile affinare le proprie capacità di raccontare che tutti hanno fin dalla nascita e che magari non sono le migliori solo perché nel corso degli anni non vengono utilizzate come potrebbero essere utilizzate ma voi fatelo fatelo osservando e guardando e proprio non solo facendovi catturare dalla storia ma guardando come la storia è costruita vedete una volta mi ha colpito molto facevo un corso tenevo un corso sul montaggio filmico per dei professionisti del cinema e della televisione alcuni erano di Sky eccetera che facevano questo lavoro tutto il giorno e pensate che la maggior parte di queste la stragrande maggioranza di queste persone non andava al cinema non vedeva storie e quindi ma poi voi ve ne accorgete perché se guardate anche certo cinema italiano televisione così vedete proprio la povertà di mezzi espressivi di narrazione c'è così proprio la mancanza di cura verso il proprio lavoro e quindi l'umiltà anche di porsi a guardare a capire e così e questa mancanza poi ti sclerotizza ti naridisce invece quindi vi invito proprio a guardare vedere qui ci sono un sacco di modelli prendete spunto scegliere le immagini qui invece vi propongo di costruire una storia ma non voglio che voi facciate questo vi mostro solo una tecnica una tecnica che non parte da una storia ma parte da un'immagine noi abbiamo scelto casualmente un'immagine questa non è una foto che ho fatto io l'ho scelta così tra quelle proposte dall'applicazione che ha decine di migliaia di fotografie a disposizione che vi offre perché ho scelto questa perché c'è un elemento di mistero la ragazza è di spalle perché quindi non la vediamo nel viso non sappiamo che espressione abbia perché non sappiamo cosa sta facendo ha un passo deciso ma è in direzione del mare dubito che possa che sia sua intenzione buttarsi vestita però ha un vestito quindi è veramente curiosa potrebbe allontanarsi velocemente da qualcosa oppure potrebbe in senso completamente opposto avvicinarsi velocemente a qualcosa d'altro non lo sappiamo tra l'altro sta nel mezzo l'inquadratura è perfetta perché abbiamo qua molto spazio che apre una prospettiva e lei è al centro della foto e dunque tende a sparire dall'orizzonte che cosa sta facendo questa donna sulla spiaggia corre ha sentito qualcosa è vestita si vuole tuffare però si presenta un problema con questa immagine siccome nasconde questi elementi di mistero è bene che noi in qualche modo possiamo rafforzare questo mistero della foto stessa siccome avete visto prima che noi possiamo mostrare l'immagine a pezzi ecco che cosa facciamo riproponiamo questa immagine in modo tale che si sviluppi una storia con la sua suspense quindi senza raccontare nulla questa volta non c'è un testo c'è solo un'immagine quindi mostriamo la spiaggia poi un pezzo del corpo poi la testa e poi la figura intera allora in questo modo noi abbiamo creato una storia o meglio abbiamo creato l'incipito di una storia e così come prima abbiamo operato sul testo qui il lettore dopo queste prime battute sarà interessato a vedere cosa succede un altro criterio specialmente quando parliamo di immagine seguire la bellezza l'occhio percepisce il bello il bello in tutti i sensi non solo perché il bello della natura ma il bello anche dell'arte fatto umano poi viviamo in Italia quindi tra arte natura eccetera un bambino fin da quando nasce non può non avere una percezione della bellezza quindi dobbiamo cercare qualche cosa che possa completare o sospingere avanti questo orizzonte per esempio guardate cercando a caso abbiamo trovato questa fotografia non è male potrebbe essere quello che la ragazza sta guardando oppure l'ambiente nel quale è inserita però non è affatto male è bella ci sono belli soprattutto i colori perché il contrasto tra questo azzurro e questo marrone è molto interessante anche questa è bella è bella dall'alto due balenotteri quindi proviamo a mettere insieme queste tre immagini abbiamo scelto delle immagini totalmente casuali solo che le successive due sono state scelte per la loro bellezza la prima perché evoca appunto qualche cosa c'è un personaggio umano molto importante che ci sia un personaggio umano oppure un'antropomorfizzazione perché ricordatevi sempre senza elemento umano non c'è storia proprio non esiste quindi elemento umano vuol dire antropomorfizzare anche un oggetto inanimato come la Pixar la Disney eccetera perché questo perché nell'elemento narrativo il lettore lo spettatore si devono poter identificare con un soggetto e nessuno si identifica con dei granelli di sabbia o un minerale o un elemento inanimato a meno che questo elemento non presenti delle caratteristiche umane e cioè fondamentalmente dei sentimenti allora abbiamo un processo di antropomorfizzazione per il quale non so le automobili parlano si innamorano provano dei sentimenti e così via chiusa parentesi quindi abbiamo scelto queste due immagini così per dei criteri esclusivi di bellezza delle inquadrature delle immagini stesse quindi rifacciamo tutto proviamo facciamo così ecco come appare scriviamo qualcosa sabbia calda seducente poi la ragazza che parte dal basso questa volta la scopriamo un po' per volta eccola andare verso l'ignoto potremmo anche non scrivere niente questa ragazza si sta muovendo come la corsa di Marta le abbiamo dato un nome le abbiamo nominata e adesso abbiamo questa meravigliosa natura così e poi dall'alto abbiamo questi balenotteri e intanto abbiamo perso la ragazza come i movimenti dei cetacei perché qua avevamo scritto come la corsa di Marta come i movimenti dei cetacei quindi non sappiamo se è lo stesso ambiente ma c'è un aggancio ed è un aggancio semantico tra termini diversi poi possiamo cambiare completamente un ricordo i ricordi sono sempre degli stati affettivi legati ai sentimenti quindi questo non fa parte della storia è un'osservazione quindi mettiamoci un ricordo perché è interessante lei sembra che vada in una direzione se va da qualche parte si lascia alle spalle qualcosa tutti quelli che seguono una direzione da A verso B si lasciano alle spalle A chi segue una direzione da B verso A si lascia alle spalle A è ovvio questo non vai solo verso qualcosa ma ti lasci qualche cosa quindi usiamo questo aspetto il lasciarsi qualcosa perché prima abbiamo parlato di andare verso e adesso invece cambiamo le carte in tavola e parliamo di lasciare qualcosa forse ricordo esperienze di pesca ad alto mare persone che ha incontrato quindi cambiamo proprio storia introduciamo un elemento di rottura momenti romantici in contesti diversi qui abbiamo scelto un po' frettolosamente le immagini non vanno bene bisogna fare una ricerca più accurata però è per dare un'idea c'è un sentimento qui all'interno e quindi stabiliamo il collegamento la natura la solitudine iniziale no? qua si può riallacciare a questa immagine eccola qua questa immagine di solitudine questa è il contrario di questa è il contrario da un punto di vista fotografico perché abbiamo un lato e poi abbiamo il lato opposto ma non è il contrario dal punto di vista del suo significato anzi questa solitudine potrebbe rafforzare la sensazione di solitudine della prima fotografia e poi lo stupore abbiamo trovato questa interessante allora abbiamo trovato queste abbiamo trovato questa che in qualche modo è questa foto incredibile molto bella quindi rifacciamo rifacciamo tutto rifacciamolo così montiamo in piccolo in alto queste piccole immagini che sembrano quindi evocare il ricordo e la solitudine di questa ragazza non le facciamo più scorrere e non ci interessa vederle in primo piano perché sono troppo irruenti nella storia un cambiamento va bene abbiamo dato una svolta alla ragazza che corre ma non possiamo sterzare completamente all'improvviso perché il nostro spettatore si sorprenderebbe troppo quindi facciamo così ecco il modo giusto di montarle tre in alto queste tre in alto e lei sotto interessante il viaggio le persone la pesca il matrimonio e poi questa che è molto bella è da un equilibrio l'equilibrio che ha trasmettono le linee di questa fotografia guardate tutte le linee e le curve di questa fotografia le linee trasmettono una sensazione di equilibrio e questa sensazione di equilibrio graficamente parlando si riversa sulla sensazione di equilibrio della storia e ora quella acrobata che giocava sulle sue onde continua quindi sembra che la ragazza guardi oppure pensi a quest'immagine importante potrebbe riallacciarsi al suo matrimonio magari questo è un ricordo proprio di un matrimonio particolare fatto non lo so in oriente in cambogio da qualche parte e non lo sappiamo però diciamo abbiamo catturato il lettore stiamo parlando di questo poi la storia può andare avanti l'abbiamo fatto in un modo molto particolare cioè non abbiamo creato una storia preliminare abbiamo solo utilizzato delle fotografie e abbiamo pensato a che cosa queste fotografie potessero rimandare e l'abbiamo fatto utilizzando delle tecniche e anche una sensibilità del racconto che è quello che dobbiamo affinare la cosa più importante eccolo qua due informazioni adesso sullo statuto semiottico della fotografia una fotografia non racconta se non è seguita da un'altra immagine è molto importante questo non c'è storia se non ci sono almeno due fotografie oppure degli elementi aggiunti poi lo vedrete questo nel manuale poi è spiegato anche però guardate che cosa che questo prima e questo dopo come possono cambiare la storia abbiamo un albero abbiamo una guerra questo aereo cadrà sull'albero sicuramente l'albero sarà rimesso in causa dalla guerra abbiamo prima una bella visione e poi questa e questo è l'inverso abbiamo un aereo che cade e qui l'albero che si salva perché avviene dopo la caduta di questo aereo qui abbiamo una sensazione di drammaticità di tensione di paura per quello che può succedere qui abbiamo invece lo scioglimento di una tensione abbiamo un risultato che è positivo morte e vita oppure l'amore questa bella immagine d'amore con l'albero che si riflette e poi l'albero solo la fine di un amore è abbastanza inequivocabile vedete è uno statuto semiotico ma perché perché queste immagini di per sé raccontano questo no magari un altro soggetto un altro essere umano con un'altra cultura di un altro paese che vede le cose diversamente potrebbe interpretare diversamente appunto queste cose è un meccanismo che come dire che si è appreso nel corso della vita a furia di vedere accostate determinate immagini a determinati canoni narrativi e poi viene facile interpretarli in un certo modo quindi l'amore è la fine di questo amore l'inquinamento l'inquinamento è la natura il contrasto la contrapposizione quindi non un legame diretto ma un legame per contrasto per contrapposizione e così via insomma ci sono da fare 50.000 ragionamenti non è un corso sullo storytelling è questo però alcuni elementi sono importanti perché io penso l'ho sempre pensato che gli insegnanti si dovrebbero proprio dotare di strumenti di questo genere perché dovrebbe far parte proprio del loro mestiere questo interessarsi a infine vi invito a scaricare questa storia questa invece è una storia fatta e finita che voi trovate qui sempre aprite il link aprite il link e trovate questo lo riporto io ed è una photo story che parla di due cani questi due labrador questi due labrador voi potete scaricare il libro da questi store è gratuito poi lo aprite con una con un'applicazione di è un libro interattivo quindi lo aprite con adobe digital edition anzi non l'ho scritto qua quindi bisogna che lo scriva su amazon non funziona perché è un libro fortemente interattivo e funziona molto bene sugli ipad e sistemi apple e per quanto riguarda android dovete utilizzare adobe digital edition che è un reader di ebook interattivi e anche per pc adobe digital edition appunto vi scaricate questo ebook che è una storia fotografica e anche questa storia è una storia completamente inventata sulla base di una serie di fotografie che ho scattato a questi due cani mi sono trovato in quest'ambiente c'erano questi due cani che giocavano tra di loro avevo con me un teleobiettivo molto forte e senza che loro se ne accorgessero perché sennò avrebbero iniziato a giocare con me io li ho ripresi in tutta una serie di posizioni così quello che facevano quindi la storia è nata in questo caso dopo aver scattato le fotografie come vedrete avrà dei contenuti fortemente antropomorfizzati e basta insomma non vi dico di più vedrete questa questa cosa che è un elemento che vi può aiutare nella costruzione di questo compito questo è l'esercizio 1 quindi tutto quello che abbiamo visto fino adesso riguarda l'esercizio 1 il racconto della tua passione e poi l'esercizio 2 il testo comunicativo della tua passione quindi utilizzate costruite questi sette step nel quali attraverso i quali voi raccontate raccontate la la vostra passione e poi cioè spiegate a un ipotetico personaggio che avete ispirato come potrebbe entrare nella vostra passione praticarla compiere i primi passi all'interno del vostro mondo questo è il deposito sia per il primo che per il secondo esercizio quindi potete riaprirlo poi il deposito potete ricaricare i vostri elementi e quindi caricherete questi due esercizi lì questo esercizio 3 è un esercizio un po' istituzionale perché a luce di quello che vi ho raccontato nel capitolo 4 e prima vi propongo uno schema per per diciamo così riorganizzare la vostra famosa lezione nelle due parti 40 minuti di lezione narrativa e poi gli elementi comunicativi ecco però se avete tempo voglia eccetera i due esercizi fondamentali sono questi questi due ci tengo proprio se riuscite a farlo mollate quello che state facendo dedicatevi a questo perché questo è veramente sono veramente due esercizi fondamentali per per tante cose perché vi aiutano proprio a ragionare entrare in una logica che è molto diversa da quella che normalmente applichiamo la narrazione poi in un ambiente di storytelling game qui vi leggete questa cosa parliamo dei personaggi dinamiche degli incontri è un capitolo molto interessante vi spieghiamo perché è entrata in gioco Aracne cioè perché nel senso di quali sono gli elementi narrativi di Aracne perché c'è proprio una funzione nello storytelling game che si chiama gli incontri quando come e perché fare questi incontri sarà molto una lettura molto interessante questa accompagnata dagli anticipi vedete i poster quindi vi svegliamo quello che c'è dietro le quinte perché perché quello che c'è dietro le quinte vi potrebbe servire voi operate sempre su due livelli da una parte i contenuti che vi proponiamo nel corso e dall'altra anche il modo con cui il corso in e-learning viene da noi organizzato qui vedete degli esempi insomma questa parte qua e poi c'è questa parte questa è di fondamentalissimamente fortissimamente eccezionalmente incredibilmente importante importanza che è raccontare versus comunicare distinguiamo tra raccontare e comunicare raccontare significa costruire un messaggio referenziale cioè interno alla struttura stessa del messaggio lo avete visto abbiamo bisogno di pochi elementi evocativi per raccontare comunicare invece ha sempre a che fare con un oggetto esterno Leopardi parla di una siepe ma la siepe non è l'oggetto della sua poesia lui racconta è poesia non comunica se comunicasse scriverebbe un saggio sulla siepe ci fornirebbe dei dati a questo proposito è importante questa è un'analisi che non è mia ma risale a Paul Valéry risale ad alcuni filoni della semiotica che poi Umberto Eco ha strutturato negli anni sessanta in questo libro straordinario che poi è stato molto dimenticato purtroppo che si chiama Apocletici Integrati dove lui spiega che i messaggi si dividono in due categorie messaggi poetici che sono autoreferenziali e i messaggi invece legati alla comunicazione che si riferiscono sempre a un oggetto e dice che il messaggio poetico è un messaggio che non decade mai perché proprio perché non si riferisce a un oggetto cioè Leopardi non parla della siepe e quindi noi dobbiamo interpretarlo questo messaggio un romanzo un racconto tutto ciò che ha a che fare con la narrazione in termini proprio strutturali si riferisce non a quello che stai raccontando cioè all'oggetto anche se è molto ben contestualizzato il padrino non è un film di mafia il padrino è un film che parla di un sacco di cose poi certo la vicenda è legata alla mafia interessante anche per questo invece la comunicazione è un'ivoca io ti dico che per chiudere per indossare gli scarponi da sci devi compiere queste azioni sono i sette step è una comunicazione non c'è niente di poetico una volta che tu hai imparato non la leggerai più quella comunicazione è finita la comunicazione si consuma ecco perché deve essere sempre rinnovata e deve essere sempre rinnovata in diversi modi ma la comunicazione si consuma finisce invece un'opera di Soffol che la leggiamo per sempre e continueremo a leggerla un romanzo lo leggeremo sempre se è di alta letteratura ovviamente se non è costruita macchinetta e quindi poi capiamo quali sono i trucchetti la narrazione dura perché trasmette dei messaggi universali e questi messaggi possono essere sempre reinterpretati guardate il mito di Aracne vedete che ha avuto diverse interpretazioni sono legittime si discute si vede oggi per quello che ci riguarda può essere interessante osservare le cose dal punto di vista che vi ho presentato io un domani potrebbe essere invece interessante mettere in luce altri aspetti ma della tela della tessitrice in quanto tale del lavoro che fa ma quelle sono metafore non hanno non è logica invece se io ti voglio comunicare come si tesse una tela a regola d'arte è proprio comunicazione questa non è ti posso trovare una forma narrativa se vuoi ma alla fine è una comunicazione quando tu l'hai imparato finisce il messaggio si consuma questo è il motivo per cui i messaggi pubblicitari decadono perché una volta che tu hai capito che la candeggina ti servirà per questo e quell'altro basta è finito non hai il problema della pubblicità il problema della comunicazione è di tenere in vita questi messaggi allungare la loro vita e come fanno è semplice loro innestano innestano dei contenuti culturali all'interno di questi messaggi comunicativi innestano la poesia dei messaggi referenziali e pensano di far sopravvivere di far durare più a lungo e invece non è così invece non è così perché non solo non determinano non aumentano la vita dei messaggi comunicativi ma portano all'inferno la poesia degli altri e noi abbiamo generazioni di ragazzi che non sanno che la colonna sonora di pubblicità di una certa banca era tratta dal Nabucco di Giuseppe Verdi e per loro è la colonna sonora di quella banca o che una determinata poesia lirica o un pezzo di Brahms sono utilizzati volgarmente di sottofondo di un messaggio pubblicitario destinato al consumo il consumo del messaggio comunicativo porta al consumo del messaggio poetico cioè a un abbassamento culturale generalizzato allora vedete qui noi abbiamo un argomento forte importante per tutti gli insegnanti affinché veramente comincino a operare questa separazione si rendano conto del mondo in cui ci troviamo vi faccio vedere questo filmato che mostra come una poesia come una poesia può essere reinterpretata nonostante questa reinterpretazione non abbia in realtà niente a che fare con la poesia stessa ma è per proprio mostrare l'universalità del messaggio per farlo devo fare così vi dicevo che questa è la dimostrazione di come i messaggi possono essere sempre reinterpretati i messaggi poetici poi vedrete qui che si parla di pubblico e privato cioè si parla di come la cultura di massa attuale tende a mescolare sempre i due campi del pubblico e privato e così facendo uccide la narrazione del soggetto noi abbiamo ragazzi che sempre di più magari hanno a che fare con degli strumenti o capacità di comunicazione ma non capacità di narrazione anzi la loro stessa narrazione è rimessa in causa questa parte del manuale parla di questo con delle citazioni importanti che rafforzano il compito che voi avete e che è quello invece di sostenere i messaggi narrativi e poetici cioè tutta quella comunicazione che non è utilitaristica qui potete scaricarvi gratuitamente questo ebook che approfondisce questi temi e poi il manuale questo capitolo si conclude con questo paragrafo che parla di elementi di narrazione con le immagini vi mostra e qui avete il link vi mostra questo vi mostra questo cortometraggio che è realizzato solo attraverso una immagine è interessantissimo e poi vi spiega il perché perché ci sono queste relazioni appunto che siamo noi a creare all'interno della immagine stessa che ha un'origine ha un'origine in un cineasta americano appunto di cui si parla qua brevemente per darvi qualche informazione e poi soprattutto molto importante è il principio di Kulesov che è questo cineasta russo che ha fatto un esperimento molto interessante dal quale deriva tutto un filone della psicologia della percezione delle immagini cinematografiche in particolare sul quale ho creato appunto questo cortometraggio che volevo mostrarvi e alla fine un trucco di Brian MacDonald del 2012 col quale che vi insegna così a creare facilmente una storia attraverso una serie di semplici procedure sono tutti elementi che possono essere utili per la vostra esperienza narrativa in questo caso era la mia in altri casi in altri casi assumiamo delle persone ovviamente però qui era più interessante non mi piaceva una voce troppo impostata in questo caso ecco prima qualcuno parlava di documentario sì qui si è ribaltato il canone cioè non è stato fatto un documentario è proprio il racconto è un racconto di una di una persona e quindi da un elemento di verità da un altro piano perché documentario ti dà un elemento di verità oggettivo qui ti dà invece un elemento di verità dal punto di vista dei sentimenti che tu provi se tu esprimi questi sentimenti poi chi ascolta e vede condivide gli stessi sentimenti infatti l'avete detto anche voi è una storia triste romantica eccetera yes e allora ecco mi piacerebbe che voi tiraste fuori qualche cosa di profondo dal racconto della vostra passione anche semplicemente con delle immagini fotografiche distinguendo i due momenti comunicare raccontare comunicare ti spiego come si allacciano gli scarponi come si impugna la fotocamera ti spiego Giulio Cesare lo stato eccetera eccetera a raccontare la storia appassionante di Giulio Cesare gli scarponi che hai perso in montagna delle gra... cioè questa confusione è intrattenuta da un abbassamento incredibile dei linguaggi un abbassamento di livello pazzesco tutti credono di sapere scrivere raccontare eccetera solo perché hanno in mano un blog o possono pubblicare delle foto ai miei studenti che studiano appunto cinema fotografia queste cose qua io gli dico la cosa migliore che potete fare è scomparire dalla scena perché il non esserci oggi è un valore il centellinare quello che fai oggi è un valore il pensare dieci volte prima di pubblicare una cosa e poi non pubblicarla è un valore vuol dire distaccarti da questa società della comunicazione mediatica dove tutti sono su tutto dove tutti inseguono tutti dove tutto si mescola e tutto dura 5 secondi 10 secondi questo oggi diventa il valore più importante come leggerete nel capitolo sempre il valore più importante oggi diventa la complessità non la semplicità è troppo semplice pubblicare fare brigare quindi dobbiamo recuperare la complessità di un racconto di una struttura di un lavoro di un progetto non dobbiamo ridurre le cose a cose semplici le cose devono essere complesse e complicate perché i soggetti si devono impegnare meglio meno ma meglio meglio poco molto poco niente che tanto buttato lì nel calderone della comunicazione questo è quello che penso io non è che tutti lo debbano condividere ma appunto considerando i leoni da tastiera che esistono al giorno d'oggi è un pensiero anche condivisibile in molti momenti hai ragione puoi essere ovunque essere da nessuna parte sì è brava esatto esattamente ho proprio scritto così nel sesto capitolo sì sì è proprio una frase simile avere la frase avere esprimersi con rappresentare tutti i colori significa essere bianchi un colore solo è molto importante i bambini crescono crescono proprio così con questo passaggio di filmati youtube eccetera fin da tre anni due anche prima pazzesco sono dentro questo mondo sono a suoi fatti non riescono a rendersi conto delle scusate il tema delle cagate che passano in continuazione e pensano che quello sia il modo attraverso il quale le persone comunicano si esprimono ma non è così e nessuno glielo insegna perché poi arrivi a scuola la scuola è un mondo completamente distaccato dove la cultura appare come qualcosa di alto di diverso rispetto al mondo circostante è difficile da raggiungere se vuoi oppure viene semplificata fino ai livelli più indecenti e non c'è più un vero dialogo che consenta ai ragazzi di accostarsi a questa cultura di massa in modo critico sì è proprio così per cui il lavoro che fate fin dai bambini più piccoli è molto importante il più importante di tutti è quello di svegliarli di accostarli sempre alla realtà in modo in modo critico meglio dubitare che avere troppe certezze sicuramente oggi non è facile no non è facile però vi dovete ispirare alla bellezza sembra la bellezza come obiettivo è giusto porselo però si va incontro a tante difficoltà eh lo so certo lo so lo so se posso fare un esempio il giorno della memoria abbiamo avuto delle resistenze da parte dei genitori perché i bambini c'è qualcuno che non voleva che si affrontasse l'argomento è una cosa assurda ovviamente lo proponiamo nei modi più adeguati però l'argomento va affrontato ma veramente i genitori che vengono a scuola e ci dicono ma potreste non parlarne perché i bambini sono troppo sensibili cioè la sensibilità si rispetta ma si rispetta nel giusto modo ma certo come si fa a non parlare del giorno della memoria di tutto quello che c'è dietro della sofferenza e in più lo si fa perché non riaccada e purtroppo non impariamo tra l'altro certo eh lì guardate c'è poco da fare lì bisogna corazzarsi un po' e difendere il senso della nostra professione che non è semplicemente quello di insegnare un oggetto e basta e poi chi si è visto si è visto ma è proprio quello di aiutare alla formazione della personalità indipendente autonoma e critica del bambino che poi diventa un ragazzo poi diventa una persona adulta poi diventa un cittadino eccetera e questo è il nostro lavoro che è autoreferenziale cioè tu rispondi alla tua etica non rispondi a nessun altro e in questo è la poesia del tuo lavoro oggi ci sono dei termini come autoreferenziale che sembrano degli insulti ti dicono ma guarda questo è autoreferenziale certo cazzo che autoreferenziale sono un poeta è autoreferenziale non parlo della siepe Leopardi non parla della siepe e quindi il messaggio è autoreferenziale è autoreferenziale io non rendo conto a nessuno sono un insegnante rendo conto ovviamente no di quello che faccio perché è chiaro è un lavoro ma da un punto di vista etico delle scelte eccetera io non rendo conto a nessuno non devo rendere conto a nessuno purtroppo bisogna dire così lei signora è un insegnante no allora faccia quello che deve fare non ci sono altre si parla si chiacchiera si cerca di poi a un certo punto bisogna bisogna difendere oggi ci dobbiamo difendere oggi ci dobbiamo difendere c'è niente da fare non viene poi dopo magari viene capito magari dopo un anno di scuola un anno e mezzo così allora quelle persone ti ringraziano perché magari succede qualcosa e capiscono che quello che tu hai fatto è la differenza no ma sempre dopo è rarissimo anche alle scuole superiori dove le famiglie non si interessano dei loro figli fondamentalmente anche lì c'è la pretesa di di poter stabilire che cosa si deve fare come eccetera purtroppo è un male molto diffuso ne parlavamo con Laura Pigozzi proprio all'inizio allora buona serata ciao buona serata ciao ragazzi buona serata ciao a tutti ciao alla prossima ciao 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 Autore dei sorrisi